Meno in discarica, più differenziata. La regione presenta le linee guida del piano regionale dei rifiuti che adesso passa al vaglio del consiglio regionale. Le parole del governatore Oliverio e dell'assessore Rizzo. Ecco l'attesa rottura con il passato. Non per 10 ma per 5 euro. L'omicidio di Marco Gentile, nuovi agghiaccianti particolari dall'ordinanza che tiene in carcere Nicola Sessia. Il presunto assassino avrebbe premeditato il delitto stentando un immotivato rancore. Tangenti Anas, la punta dell'iceberg, le mazzette prese e contate dentro e fuori dall'ufficio. Ecco nuove intercettazioni dall'inchiesta che incastra la damanera Antonella Crogliano che adesso tende di raccontare ciò che sa IPM. La ragazzina killer uscita dal mondo virtuale. Social network e giochi di ruolo. Ecco il mondo della 17enne che a merito Portosalvo ha atteso che la madre si addormentasse per spararle alla testa. Poi il racconto incerto per coprire una colpa troppo grande. Domani in campo Serie B e Lega Pro. Il crotone atteso dal Pescara. Sfida particolare per i fratelli Zampano. Il Catanzaro con Mr. R al debutto in panchina ospita il Ceravolo e il Matera. Cosenza in trasferta sul terreno della Paganese. Buon pomeriggio e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura una notizia di cronaca e di un morto e tre feriti. Il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina a Fuscaldo nel Cosentino. A perdere la vita un 69enne Francesco Cupello che a bordo della sua Citroen si è scontrato con altre due autovetture i cui conducenti sono stati condotti in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Sulla statale 18, teatro dell'incidente, il traffico veicolare è stato interrotto per diverse ore su entrambi i sensi di marcia. Andiamo avanti. Questa mattina a Catanzaro il governatore Oliverio e l'assessore all'ambiente Antonella Rizzo hanno illustrato le linee guida del piano regionale dei rifiuti. Ridurre il conferimento in discarica e raccolta differenziata spinta. Ecco gli elementi quantificanti. Limitare la produzione dei rifiuti e il conferimento in discarica e spingere sulla raccolta differenziata. Sono queste le linee guida sul piano dei rifiuti presentate stamani a Catanzaro nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato tra gli altri il governatore della Calabria, Mario Oliverio, l'assessore all'ambiente Antonella Rizzo e tutti i comuni calabresi. Noi abbiamo approvato le linee guida per la redazione del nuovo piano dei rifiuti che sarà definito entro fine mese. Se le linee guida sono state già trasmesse dal Consiglio regionale, pensiamo entro la fine dell'anno di definire appunto il percorso legislativo e di procedere con l'approvazione definitiva poi successivamente del nuovo piano dei rifiuti. La Calabria non è tra le otto regioni che hanno raggiunto con sei anni di anticipo l'obiettivo dell'Unione Europea fissato per il 2020 del 65% di avvio al riciclo. Così l'assessore all'ambiente ha spiegato quali sono gli obiettivi delle linee guida e del piano regionale dei rifiuti. Gli obiettivi delle linee guida sono quelli di aumentare quanto più possibile la raccolta differenziata fino al 65% previsto nel 2020 così come stabilisce la comunità europea. L'intervento che oggi presentiamo è quello di un tutoraggio a favore dei comuni perché li affianchiamo con una convenzione che prevede naturalmente finanziamenti a carico del For Calabria proprio per accelerare questa raccolta differenziata e permettere il minor conferimento possibile in discarica. Torniamo ad occuparci dell'omicidio di Marco Gentile, il 18enne assassinato a coltellate a Catanzaro da un suo coetaneo. agghiaccianti alcuni particolari che emergono dall'ordinanza firmata dal GIP a carico di Nicola Sia che avrebbe premeditato il delitto per un debito che non era neppure di 10 euro ma di 5. Sentiamo Gabriella Passerello. Dov'è Marchicedu? Che lai è cortediara? Nicola Sia aveva premeditato l'omicidio già da una settimana. Aveva visto i suoi amici ai giardini di San Leonardo mostrando il coltello acquistato per condannare a morte chi doveva restituirgli 5 euro per uno spinello. Sì, perché Marco Gentile è morto non per un debito di 10 euro ma ancora per meno. In quell'occasione Marco non c'era ma i suoi amici gli avevano riferito tutto. Lui si era fatto una risata sottovalutando la situazione. Emergono così nuovi particolari nell'ordinanza di custodia in carcere per Nicola Sia firmata dal GIP Assunta Maiore. Sia avrebbe covato verso la vittima un rancore immotivato. L'aggressione, scrive il GIP, è stata posta in essere contro un coetaneo disarmato indifeso, incredulo, davanti alla morte che lo attendeva. Aveva talmente sottovalutato le minacce ricevute e derelato la settimana prima che quel maledetto sabato 24 ottobre si trovava ai giardini con i suoi amici con cui aveva bevuto e forse fumato qualche spinello quando si è avvicinato a Nicola Sia chiedendogli «Ma è vero che vuoi uccidermi?» Sia ha dato sfogo al suo rancore puntandogli il coltello alla gola, colpendolo a morte. Neppure la presenza di tante persone, le urle della fidanzatina della vittima, dell'amico intervenuto nel tentativo disperato di salvare Marco, sono serviti a bloccare la furi omicida per il GIP. L'indagato ha una personalità protesta a farsi giustizia da sé per nulla, un ragazzo dedito all'uso di droghe che potrebbe commettere ulteriori gravi delitti. Storie di gioventù distrutte non solo a Catanzaro ma anche a Melito Portosalvo, teatro della drammatica e fine di Patrizia Crivellaro, l'infermiere uccisa dalla figlia 17enne a cui era stato vietato l'uso del cellulare e del PC a causa del pessimo rendimento a scuola. Una ragazzina killer quasi uscita da un mondo virtuale. Sentiamo Francesco Crazzo. Un mondo con regole certe, più violento ma meno crudele di quello reale. Forse è questo ciò che si era costruito attorno alla ragazzina che avrebbe sparato alla madre a Melito Portosalvo. Giochi di ruolo online, social network, spazi liquidi in cui creare una nuova identità, lontana da un mondo insopportabile. Nessun rimprovero dei professori, nessun rifiuto dai compagni, niente libri da studiare, persino la voce della mamma preoccupata può diventare solo un fastidioso ronzio. Fino a quando la mamma non diventa il nemico che uccide quel mondo parallelo e virtuale e allora la ragazzina, con lucida follia, attende che il padre vada a lavorare e che la madre dorma, si avvicina al letto matrimoniale e spara un colpo alla testa del nemico, colei che le ha dato la vita. Poi, ancora più lucidamente, va dallo zio e inventa una storia che non sta in piedi, piena di contraddizioni e incongruenze. Il suo negare va avanti per mesi. Solo la polizia scientifica riesce a ricostruire quella che probabilmente è la verità. Sarebbe semplice liquidare la cosa come opera di una persona squilibrata. Impossibile, invece, capire le cause. Sul web si affollano i comunicati stampa di professori e psicologi, pieni di risposte. Ma forse l'immane tragedia di Melito pone domande a cui non sappiamo più rispondere. E continuiamo a raccontarvi dell'inchiesta della Procura di Roma sulle tangenti ANAS. Quella scoperta dagli 007 della Guardia di Finanza potrebbe essere solo la punta dell'iceberg rispetto a ciò che adesso potrebbe svelare Antonella Croglianola da maniera decisa a collaborare con IPM. Dalla Capitale, la nostra corrispondente Michela Mancini. Soldi, tanti soldi in quell'ufficio. Spiega il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, espressione della quotidianità della corruzione, anzi, di una quotidianità che impressiona. Molto dicono le intercettazioni della Guardia di Finanza. Elementi schiaccianti contro Antonella Crogliano, la dama nera, al vertice del sistema corruttivo nel cuore dell'ANAS, silente davanti al GIP e che avrà molto da dire ai PM, coi quali, spiega l'avvocato Giancarlo Pittelli, suo difensore di fiducia, intende collaborare. Soldi che giravano nel suo ufficio, ma anche fuori, soldi da contare anche altrove. Capito, ma noi che punti eravamo arrivati, faccio metterlo a casa e domani ve lo segno, c'è un pezzo di carta, va bene? Faccia a casa, faccia a casa. Un sistema vasto, vastissimo, quello che emerge dalle carte dell'inchiesta capitolina, un sistema alla vigile dell'interrogatorio della dama nera, che si profila solo come la punta dell'iceberg. Restiamo alla cronaca giudiziaria, a Milano il boss dell'Andrangheta. Rocco Papalia viene condannato a 30 anni di carcere per un omicidio che risale al remoto 1976. Un cold case che ricostruiamo in questo servizio. 30 anni di reclusione al boss Rocco Papalia per il GUP di Milano, Alessandra Simeon, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero, fu lui ad assassinare a colpi di pistola, nel lontano 9 ottobre 1976, Giuseppe De Rosa, che rimase esanime all'ingresso di una discoteca. Un cold case che ha trovato soluzione solo 39 anni dopo. Chiave di volto un'intercettazione captata dai carabinieri il 22 aprile del 2012, nell'ambito dell'inchiesta Platino. A parlare Agostino Catanzeriti, arrestato nel gennaio 2014 e già condannato in primo grado, corrido abbreviato, a 14 anni di carcere, ritenuto il reggente della cosca Papalia nel territorio di Buccinasco. Secondo quanto sosteneva Catanzeriti, Rocco Papalia voleva dare una lezione a De Rosa, lezione plateale, fu assassinato così pubblicamente e nessuno mai preferì parola. Quell'intercettazione fu l'astura per un'indagine che al primo grado di giudizio si è rivelata particolarmente solida. La morte di De Rosa sarebbe avvenuta dopo un litigio per una donna e pertanto un affronto che Papalia lavò col sangue. Il PM Paolo Storari ha contestato così l'aggravante dei futili motivi a carico del boss, ma non quella della premeditazione. Ed ora in breve gli altri fatti di cronaca della giornata. I carabinieri del ROS nell'ambito dell'inchiesta Emilia hanno eseguito un nuovo sequestro di beni per un valore complessivo di 30 milioni di euro a carico dei fratelli Palmo e Giuseppe Vertinelli, originali di Cutro attualmente detenuti a Bologna per associazione mafiosa, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Emilia su richiesta della DDA di Bologna. I fratelli Vertinelli sono ritenuti espressione imprenditoriale della cosca Grande Aracri. Nel complesso la misura di prevenzione patrimoniale è interessato 12 aziende, 71 immobili, 22 autoveicoli e diversi rapporti bancari e finanziari. È giunta stamani nel porto di Reggio Calabria la motonave Sia in Pilot, con a bordo 824 migranti, fra cui 603 uomini, 141 donne e 80 minorenni di varie etnie. Le prime a sbarcare sono state una bimba nata a prematura prima di intraprendere la traversata e sua madre. Entrambe sono state trasportate in ospedale. Al momento dello sbarco i migranti sono stati sottoposti alle prime cure sanitarie da parte del personale medico presente sul posto, in attesa di essere trasferiti in base al piano di riparto predisposto dal biminale. La Guardia di Finanza di Cosenza, in occasione della ricorrenza di Halloween, ha sequestrato un milione e mezzo di articoli destinati alla vendita, ritenuti carenti dei contenuti informativi minimi per il consumatore o contraffatti. Le fiamme gialle hanno fatto luce su prodotti messi in commercio dai cittadini cinesi, quali maschere, dentature, cappellini a tema e tatuaggi temporanei, oltre a una serie di altri prodotti di decorazione ed articoli elettrici destinati soprattutto ai consumatori più giovani. Rapina a mano armata ieri sera a San Calogero, nel Vibonese, dove due malviventi a volto coperto imbracciando dei fucili, hanno fatto irruzioni in un negozio di materiali edilizi e dopo aver aggredito il titolare hanno prelevato tutto l'incasso. Dopo aver portato a termine la rapina, i malviventi si sono dileguati a bordo di un'auto precedentemente rubata. Indagano i carabinieri. Ed ora andiamo a Pizzo, nel Vibonese, qui gli operai dell'Eurocop, azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, protestano per il mancato pagamento degli stipendi. Protestano e assediano i tetti del palazzo municipale. Uno dei manifestanti ha anche accusato un malore. Sentiamo Cristina Iannuzzi. Tornano sul tetto, ma questa volta giurano di non scendere fino a quando non verranno pagate le quattro mensilità arretrate. Sono i 17 operai dell'Eurocop di Pizzo che sono saliti sulla cima di Palazzo San Giorgio per rivendicare ciò che gli spetta di diritto, gli stipendi. Tre anni che facciamo sempre il stesso problema. Non spondare avanti così. Stiamo facendo la fame. Da mesi che ci prendono in giro. Noi ora non scendiamo da qua fino a quando non si risolve il problema. Una protesta dai toni forti che ha reso necessario l'intervento dei carabinieri della locale stazione guidati dal comandante Paolo Fiorello. Sul posto anche due squadre dei vigili del fuoco. A tentare di riportare la calma il segretario provinciale dello Slaicob a Sanazzarino Piperno che ha spiegato la situazione paradossale dei lavoratori della nettezza urbana che non possono essere retribuiti perché la ditta Eurocop è stata pignorata da Equitalia. Stanno riscando la vita stamattina i lavoratori per responsabilità di una legge che non fa giustizia. Da parte sua il vice sindaco Fabrizio Anello attende il nulla osta per attivare le procedure sostitutive al fine di saldare direttamente le spettanze agli operai. Purtroppo spesso la burocrazia non ha i tempi necessari e veloci per poter far fronte alle necessità immediate degli operai. Io sono vicino e capisco la loro difficoltà. L'impegno è massimo e spero di poterlo risolverlo in questa settimana. Restiamo nel Vibonese per parlarvi di trasporto pubblico. Ieri un bus in condizioni precarie è finito fuoristrada e solo la prontezza dell'autista ha evitato un dramma. Oggi siamo andati a verificare le condizioni dei pullman attivi nel servizio. Vediamo. E' ancora sotto shock Michele Pontoriero, il conducente dell'autobus delle ferrovie della Calabria che ieri sulla provinciale per Tropea è riuscito a evitare che l'autobus con a bordo 50 studenti del Vibonese finisse in un dirupo. Forse è un guasto ai freni ma saranno le perizie a fare chiarezza. Un incidente che ripropone il tema della sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico. E stamattina siamo stati al parco macchine delle ferrovie della Calabria di Vibo Valencia. Tra i mezzi in sosta anche quello coinvolto nell'incidente. Gli autobus che circolano sono sottoposti a continui controlli e revisioni come stabilisce la legge. Qualcuno è più vecchiotto di altri. Ammette un responsabile sindacale. Che i pullman siano datati, alcuni più di altri è un dato di fatto che non può essere incontestabile secondo me. Il problema però attribuire poi la responsabilità di quello che è successo alla faticenza o meno di un mezzo aziendale mi pare un pochino affrettoloso anche perché non abbiamo dati tecnici al momento che possono aiutarci a propendere per una tesi piuttosto che per un'altra. Sarebbe ora che la Regione e tutti gli altri mettessero mani al problema del trasporto pubblico locale e lo curassero un pochino meglio, rinnovassero il parco macchine e per dare un maggiore comfort agli utenti, per garantire servizi certi e un pochino il trasporto pubblico locale al momento viene penalizzato dalla mancanza di investimenti purtroppo. Ed ora la sanità nel settore neurologico. L'ospedale Iazzolino di Vibo Valencia, un presidio d'eccellenza riconosciuto come tale in tutta Italia. Malgrado ciò rischia di essere fortemente penalizzato dalle politiche sanitarie. Vediamo perché. In Italia se ne contano 171, tre in Calabria, di cui uno a Vibo Valencia, il cui centro neurologico è considerato un punto d'eccellenza. Stiamo parlando dello Stroke Unit, reparto speciale per la cura dell'ictus cerebrale. Un paziente colpito da ictus a Vibo Valencia sopravvive nella maggior parte dei casi. Lo dicono i numeri che piazzano il centro di Vibo Valencia al sesto posto nella graduatoria nazionale. Eppure sembra che al sistema sanitario importi poco dei risultati. Tant'è che è stata proposta l'istituzione di un centro unico che dovrà sorgere a Catanzaro, il che porterebbe alla soppressione del lab di Vibo Valencia. Un'eventualità che ha provocato la forte reazione di rappresentanti del mondo politico e medico che parlano di ipotesi sciagurata. Noi abbiamo fatto storie in Calabria sull'Astroke Unit e sulla trombolisi. Siamo una realtà che vanta l'attivo 450 trattamenti trombolici effettuati. Credo in Italia sono certo di non essere smentito. Non ci sono altre dici città in Italia che possano vantare un percorso di questo tipo. Abbiamo una mortalità di molto inferiore rispetto alla media nazionale e a quella internazionale. Se c'è una M che conta in Calabria dovrebbe essere quella della meritocrazia. Credo che Vibo meriti questo ruolo, lo deve rivendicare con forza e siamo pronti ad ogni tipo di interlocuzione serena. Voltiamo pagina, si amplia la rete italiana della Lega Italiana per i Diritti Umani. Alla mezza questa mattina la nascita del nuovo comitato che si affianca a quello di Reggio, Catanzaro e Crotone. La Lidu Calabrese, Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo, si arricchisce di un nuovo comitato, quello di La Mezza Eterme, la cui guida è stata affidata da Amanda Lamberti. Un passo avanti per la Lega che in Calabria è guidata da Marisa Fagà e cavalca gli stessi principi ispiratori che ne accompagnarono la nascita nel 1919 prima e la rinascita dopo nel 1948, quando messo da parte il pericolo fascista, la dichiarazione dei diritti dell'uomo rimetteva ordine e priorità in un mondo smosso dalle dittature. Miriamo a promuovere la cittadinanza attiva, ha spiegato Fagà, che ha richiamato i cruenti fatti di cronaca dei giorni scorsi che hanno avuto come protagonisti dei giovani e che ben fanno capire quanto ci sia da lavorare sulle coscienze. Un lavoro da fare in sinergia, ha sottolineato la responsabile regionale, a partire dai luoghi educativi. Ecco perché fondamentale è il progetto scuola, affidato alla Mezza e a Massimo Stanganelli e che è solo un tassello del percorso che la Lido ha intenzione di intraprendere nella città della Piana. Lamberti ha infatti spiegato che la Lega entrerà nelle carceri, vigilando affinché ci sia una reale rieducazione nella pena, ma anche nelle aziende perché rimanga intatta la dignità del lavoratore. Ed ora lo sport, partiamo dal calcio. Il Crotone guarda avanti dopo il pari dell'ultimo turno con il Brescia. I Pitagorici sperano di riprendere la loro marcia trionfale a partire sin da domani quando affronteranno il Pescara. Un match dal sapore particolare, soprattutto per il difensore Zampano. Vediamo. Perde per strada due punti, ma il più bel Crotone della stagione ed è tutto dire alla luce dello straordinario score dei ragazzi di Juric. Peccato per il pari contro il Brescia, in una gara nella quale gli squali rosso-blui hanno comunque dimostrato la loro vera natura. Sentiamo bene, ma non grazie soltanto alle quattro, alle tre difensore, ma sia all'intera fase difensiva che fa la squadra, partendo da Budimir e arrivando a noi dietro. Quindi credo che quello deve essere la nostra arma, ecco. E abbiamo dimostrato fin qua che una volta che facciamo buon pressing in avanti riusciamo ad essere corti ancora la difesa e subire poche occasioni. La preparazione atletica e il buon lavoro fatto in estate danno oggi i loro frutti davanti ad un estenuante tour de force. Un po' di fatica credo che sia anche giusto perché non siamo delle macchine, ecco. Purtroppo, giocando tre partite, due partite una così ravvicinata all'altra, è veramente faticoso. I Pitagorici d'altronde vogliono guardare avanti e domani sono attesi dal probante impegno con il Pescara. Sfida nella sfida, quella tra i fratelli Zampano. Di nuovo contro i miei fratelli, loro non hanno giocato che è stata rinviata la partita, quindi saranno un po' più freschi di noi. Però noi comunque pensiamo a noi a fare bene, penso che faremo bene sabato. E domani in campo anche le calabresi di Lega Pro, ovvero il Catanzaro e Crotone, sordio sulla panchina delle Aquile per Alessandro Erra, in casa contro il Matera, mentre il Cosenza rende visita alla Paganese. Vediamo. Sarà una non aggiornata di Lega Pro all'insegna degli scontri al vertice. Il Clou è previsto per domenica alle 17.30 con il Messina che andrà a far visita al Foggia. È la sfida tra le due squadre più in forma del campionato. Entrambe reduci da tre vittorie consecutive, miglior difesa, quella peloritana, e miglior attacco, quello dei Satanelli. Alle 14 spazio invece al derby campano tra Casertana e Benevento. Gara chiave per decidere le gerarchie tra le seconde del torneo. Attenzione però anche alle due quinte del girone, Cosenza ed Acregas, entrambe in campo sabato. Ad aprire la giornata saranno gli Agrigentini in campo alle 14 a Rieti contro la lupa Castelli Romani. Cosenza invece discena alle 17 a Pagani, vogliosa di dare continuità al filotto positivo in campionato. Sono quattro i risultati utili di fila genanellati dai silani di Giorgio Rosselli. Contro gli azzurro stellati della Paganese si punta la manita che potrebbe proiettare i lupi nei piani altissimi della graduatoria. Alle 20.30 alla volta di Martina Franca Melfi. Gara delicata in ottica salvezza tra due formazioni in serie negativa. Al pari della Fidelisandria che domenica alle 15 proverà a rialzare la testa contro l'ischia. Alla stessa ora altra sfida salvezza. In campo Catanzaro e Matera. Sarà la prima di Alessandro Erra, subentrato in settimana Massimo D'Urso, sulla panchina giallorossa. La parola d'ordine è vincere. Alle 17.30 toccherà poi alla Juve Stabbia contro il Catania. Il turno, numero 9, si chiuderà con il Monday Night. Tutto pugliese tra Lecce e Monopoli. Passiamo al basket, al Pentimele a Rivellatina. Altra corazzata di Serie A2. La Viola Reggio Calabria prova il riscatto dopo la sconfitta subita a Ferentino. Per il Nero Arancio, buone notizie dall'infermeria sulle condizioni di Freeman. Vediamo. Un'altra settimana difficile per la Viola Reggio Calabria. Dopo la tegola dell'infortunio di Austin Freeman, i Nero Arancio, privi della guardia americana, hanno rimediato una sonora sconfitta a Ferentino. Una partita in perenne apnea, condita dai continui errori dei reggini, che alla fine, nella persona del play Valerio Spinelli, sentono il bisogno di scusarsi per la prestazione. In città si respira un clima di tensione. L'incubo è quello della regina di Walter Novellino, la squadra nata per incantare, che fece un flop clamoroso in Serie B. La Bermet delle Star, però, è ancora ingiudicabile dopo sole quattro partite disputate, delle quali una, quella in ciociaria, contro la più forte competitor e in condizioni di inferiorità, data l'assenza di Austin Freeman. Lo statunitense si trova adesso in una clinica di novello in San Lucido, in provincia di Cosenza. La prognosi di tre settimane di assenza resta quindi confermata, mentre una squadra che deve ritrovare morale, si prepara alla sfida casalinga contro una compagine solida, la benacquista latina dell'ex Ferentino William Mosley. E' veramente tutto, grazie dell'attenzione e buon pomeriggio. Limitare la produzione dei rifiuti e il conferimento in discariche e spingere sulla raccolta differenziata. Sono queste le linee guida sul piano dei rifiuti presentate stamani a Catanzaro nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato tra gli altri il governatore della Calabria, Mario Oliverio, l'assessore all'ambiente. Dov'è Marchi Cedu, che l'aie curte di Ara? Nicola Si aveva premeditato l'omicidio già da una settimana. Aveva visto i suoi amici ai giardini di San Leonardo mostrando il coltello acquistato per condannare a morte chi doveva restituirgli 5 euro per uno spinello. Mondo con regole certe, più violento ma meno crudele di quello reale. Forse è questo ciò che si era costruito attorno la ragazzina che avrebbe sparato alla madre a Melito Portosalvo. Giochi di ruolo online, social network, spazi liquidi in cui creare... Soldi, tanti soldi in quell'ufficio. Spiega il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, espressione della quotidianità della corruzione, anzi di una quotidianità che impressiona. Molto dicono le intercettazioni della... Trent'anni di reclusione al boss Rocco Papalia per il GUP di Milano, Alessandra Signon, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero fu lui ad assassinare a colpi di pistola nel lontano 9 ottobre 1976, Giuseppe De Rosa, che rimase esanime all'ingresso di una discoteca. Un cold case che ha trovato soluzioni. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Dal lunedì 26 ottobre, l'edizione pomeriggio della C News 24 va in onda alle 16 e 30. I calabresi sono informati.